Oggi vi faremo vedere il montaggio di una borsa su una daina. Si tratta di una custom bag da 25 litri è estendibile a 35 litri. L'accessorio, come potete vedere, nella sua parte posteriore c'ha un incamore all'ammortizzatore. Il fissaggio avverrà tramite queste ciglia e chiaramente sulla parte in basso cerchiamo di bloccarla anche per evitare che se la borsa è vuota possa sventolare durante il viaggio. Questa borsa, come dicevo, ha un incamo per l'ammortizzatore. Il pannello in realtà si sdoppia a ventaglio creando appunto lo spazio per l'ammortizzatore. Come state vedendo abbiamo fatto passare le due ciglia attraverso la barra Fender. In questo modo, una volta averle tirate ben su, la borsa è già posizionata. Adesso bisogna fissarla introducendo queste ciglia all'interno della borsa. all'interno della borsa troverete quest'anello. Quest'anello in cuoio serve appunto a poter far allargare l'estendibile creando lo spazio per l'ammortizzatore. Come è possibile notare abbiamo creato lo spazio per l'ammortizzatore mantenendo il posteriore avere l'ammortizzatore e la parte sdoppiata di staccata. Una volta che abbiamo ben serrato le figlie, passiamo alla chiusura della borsa. Ed ecco ben posizionata la borsa. Una delle caratteristiche di questo accessorio è la possibilità di poterla allargare. Adesso vediamo come. Basta aprire, tirar fuori questa cerniera e con un semplice gesto la borsa si e con un semplice gesto la borsa 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 e con un semplice gesto la borsa.